Che rapporto ha Casini con l'arte? Di apprendista, non di apprendista stregone, di apprendista e basta. Devo dire che quando qualcuno spiega è meglio perché sono un profano, però devo dire che sono molto interessato e credo che questa iniziativa, Arte Fiera, sia un vanto per Bologna. Una delle cose veramente che determina il fatto che tanti vengono nella nostra città, l'apprezzino, l'amino anche sotto altri aspetti, naturalmente dobbiamo tenercela stretta e farla crescere come un bambino. 40 anni, un festeggiamento quello di Arte Fiera? Sì, 40 anni non li dimostra però, direi che sembra un mettenne.